Marta Bassino non parteciperà alle gare di Coppa del Mondo di sci in programma nel weekend a Tuitfiel, la campionessa italiana vincitrice dell'oro in Super G agli ultimi mondiali. È rientrata in Italia per un gravissimo lutto che l'ha colpita nelle ultime ore. È morta questa mattina la cognata Sara Fina, 30 anni compiuti ieri. La donna, moglie di Matteo Bassino, fratello di Marta, madre di due bimbi di 7 e 2 anni, risiedeva a Borgo San Dalmazzo in Piemonte ed è stata trovata morta nel letto questa mattina.